Eeeh what day a tutti ciurma e benvenuti le giocherine in questo nuovissimo episodio su Yandere Simulator Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete vedere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like So che ce la possiamo fare ragazzi, come sempre grazie veramente di cuore a tutti per il supporto Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa e per assurdo ragazzi sono riuscita a far fuori letteralmente la seconda rivale Senza neanche accorgermene, sono riuscita a disfarmi del cadavere senza farmi scoprire Di regola la settimana è iniziata la grandissima perché sono riuscita ragazzi ad eliminarla lo stesso lunedì Qualcuno di voi mi ha detto ma si dai salta comunque la settimana Qualcun altro ha detto di no perché giustamente magari ragazzi comunque andando avanti quei giorni Posso in ogni caso andare a lezione quindi accumularmi i punti studio e ovviamente anche andare a lavorare la sera Però cosa non meno importante, vi ricordiamo che io ho ancora la prima rivale prigioniera Per cui magari potremo utilizzare questi giorni per abbassarle ulteriormente la sanità E vedere di usarla una volta per tutte per far fuori la prossima rivale perlomeno Questo dovrebbe essere il piano Per cui senza farci fin troppi problemi ragazzi andiamo appunto in cantina a vedere come è la situazione Infatti lei è ancora qui poverina, vi dirò sinceramente ragazzi mi dispiace veramente da morire La torturiamo per un'ora, arriveremo in ritardo di un'ora a scuola Niente ormai si sta praticamente arrendendo all'idea che sta poveraccia la tiene prigioniera E la tortura come se nulla fosse, wow che meraviglia Possiamo andare in santa pace a lezione Ci accumuliamo un po' di punticini Siamo riusciti a raggiungere a completare il primo livello di chimica Direi di fare lo stesso, insomma di concentrarci un pochettino di più sulla psicologia Ok infatti adesso che è raggiunto il livello 1 è abbastanza conoscenza di chimica Per insomma creare una sostanza velenosa nel laboratorio di chimica Il veleno può essere utilizzato anche per avvelenare il cibo della tua attuale rivale Io direi che sarebbe pure comodo ragazzi approfittare e aumentarci ulteriormente Possibilmente chiaramente la reputazione Meglio approfittare ragazzi perché ce ne stanno un sacco seduti giusto nel corridoio a fianco alla biblioteca Quindi occasione migliore e non ce posta Va bene ragazzi dopo aver fatto un pochettino i compiti in giro Ritorniamo a lezione Aumentiamo ancora tutti i punti qua psicologia E a posto così direi che per oggi possiamo pure annarcene a fanculo Noi siamo troppo trasgri per restare qua a pulire come i pezzenti Ma io direi ragazzi che siccome di soldini già ne abbiamo accumulati un pochettino Direi di dedicare queste sere appunto ad abbassare la sanità alla poverina che sta di sotto Però una cosa interessante che mi ha detto uno di voi in uno dei commenti E che ci sta uno dei ragazzi bulli insomma di quelli che si riuniscono lì vicino all'inceneritore Che sta in contatto tipo con la mafia o una roba del genere E quindi l'indomani andremo a parlare con questo tizio Vediamo se lo troviamo e vediamo cosa succede Cara ragazza mi dispiace Nella basso di altri due Di un altro 2% Poi andiamo a scuola Così comunque andiamo a fare lezione E vediamo di trovare sto ragazzo di cui mi avete parlato Ok non perdiamo troppo tempo Facciamo lezione Aumentiamoci i punti a psicologia Così raggiungiamo il livello 1 E andiamo ad aumentare Visto che è un pelino più su il linguaggio Ok adesso ragazzi si perde quindi meno sanità Una volta che si compiono delle azioni violente Si guadagna più reputazione Ad averlo saputo Cazzo l'avrei fatto prima Di fare i compiti a mezza scuola Quindi fa più danno durante la tortura Perfetto quindi comunque può tornarci utile Io non so se i bulletti si vanno a mettere fuori già a quest'ora Se no aspettiamo ragazzi il cleaning time Perché se non sbaglio a quell'ora Saranno tutti lì Quindi torniamo di nuovo a lezione Aumentiamo ulteriormente il linguaggio E perfetto Adesso andiamo a piazzarci vicino all'inceneritore Ok ragazzi come previsto Infatti i bulletti si sono venuti a mettere qua fuori Vediamo chi di questi E' quello che Quindi non sei il tipo di ragazzo Con cui vuoi mischiarti praticamente Quindi ti farai male se mi stai troppo intorno Quindi ho fatto arrabbiare alcuni ragazzi insomma ragazzacci E ogni volta quindi mi aspettano fuori dal cancello della scuola Quindi se ci vedono insieme penseranno che sia la mia ragazza Quindi se pensano praticamente ha voluto dire Quindi cioè se ti vedono insieme a me penseranno che sia importante per me Quindi potrebbero anche farti del male Questo ha voluto dire Quindi questo è il suo obiettivo Cioè aspettarlo alle tre e mezza fuori dal cancello della scuola Per sconfigge sta gentaglia Ma perché devo fare sta roba no? Oddio a meno che gli devo fare questo favore Per far sì che poi entro nelle sue grazie E quindi poi mi mette una buona parola per la mafia Praticamente forse Può essere che significhi questo Fatto sta che già sono passate tre e mezza Vediamo accettiamo Sei matta? Pensi che ce gliela puoi fa? Cioè stiamo parlando di una gang Cioè non avrai una chance Ah c'è il tuo funerale Quindi ti aspetterò al cancello della scuola alle tre e trenta Già sono le tre e trenta Infatti già se sta via Perché siamo in super mega ritardo Va bene andiamo bello Vediamo che riusciamo a combinare Sta arrivando il tipo o no? Ammazza se sei lento zio eh Già siamo in ritardo porca miseria Ok adesso sì Eccoli là Come insomma Come previsto Cioè non starai provando davvero a combatterli Cioè ti gonfieranno il culo Vabbè non c'è modo di tornare indietro Eccoli che arrivano What? What the fuck? No 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 Non mi avrete Non mi avrete Minchia vi gonfio Come una zampogna Via Vediamo se Oh 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 Via 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 Minchia Ci manca solo davvero che Mi faccio colpi come una polla Via Bam 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 M'hanno colpito Oh 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 Ok fuori un altro ragazzi Caen come moccas Cadono come in bosche Non c'era più per nessuno Questa è arrivata Ehm Cambo Whoah oh 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 Victory Yes Non ho mai visto nulla del genere Tu non sei Umana Hai capito La mia vera natura Dopo oggi Non dovrò più preoccuparmi Di sti dizi Beh se non ti Swiss Se non ti fossi messa in mezzo Probabilmente mi avrebbero ucciso Ti devo la mia vita ah quindi non c'è modo insomma in cui io possa ripagarti ma forse c'è qualcun altro che può farlo mio fratello quindi sai la stradina vicino ai negozi di notte puoi trovarci mio fratello insomma agganciarti per qualsiasi cosa tu abbia bisogno e grazie ancora ok quindi bisognava fare l'obiettivo per insomma rendercelo amico e quindi renderci amico suo fratello che è quello che ha connections quindi e wow ragazzi cioè adesso siamo siamo amici con quelli potenti e comunque questa è una cosa positiva ovviamente per cui è arrivato il momento ragazzi di finire di torturare questa poverina anzi no 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 visto che c'è sto io faccio un saltino in città e vado a vedere cosa hanno cosa da propormi il fratello di questo tizio vediamo un po' ehi bello yakuza porca miseria quindi non tirerò il mio nome e tu non mi direi il tuo quindi nemmeno conosciamo l'uno dell'altro meglio sarà quindi ti dimenticherei la mia faccia e ti dimenticherei questa conversazione capito chiarissimo chiarissimo quindi ha detto che in debito con te che non ti può ripagare quindi ti ringrazio per avergli salvato il culo ma questo non ci rende amici ok ci sono cose alle quali potresti essere interessata quindi prendi quello che wow io penso che butterò sui narcotici questa volta oddio sul veleno letale veleno letale quindi ha avuto quello che volevi quindi ok il debito è ripagato ci siamo capiti solo un'unica cosa riguardo mio fratello voglio che tu non fa niente dimentica che io l'abbia detto chissà che cavolo vuol dire direi che compreremo ragazzi i preservativi perché questo insomma li si può utilizzare ovviamente per sabotare una eventuale rivale per cui grazie mille anche per questi e c'è questa tipa ragazzi che ci può insegnare cose direi di aggiornare questa cosa delle note negli armadietti comunque vabbè intanto abbiamo usato usato qualche soldino per cui direi di tornare a casa e questa sera ritornare dalla nostra povera vittima qui e l'indomani ragazzi direi allora non so se ci conviene farlo già adesso cioè di finirle di fa insomma di finirle proprio completamente la la sanità o di aspettare la settimana prossima comunque che arrivi la nuova rivale questo magari potrebbe toglierci tutto l'impiccio per cui andiamo a scuola si infatti adesso ragazzi fare i compiti da più due punti bello fare i compiti anche i bulletti che io adesso ci sto facendo caso ma mi sa che più di così ragazzi la reputazione per lo meno attualmente non mi aumenta non so perché non direi di fare lezione imparare tante belle nuove cugine per cui aumentiamo il linguaggio chiaramente e ne diamo un altro in questo caso alla biologia perfetto e adesso hai abbastanza abilità per scrivere delle convincenti note di suicidio che cosa orribile quindi puoi anche lasciare una nota di suicidio vicino alle scarpe della tua attuale rivale dopo averla spinta giù dal tetto quindi questo potrebbe essere un altro modo per disfarci chiaramente delle nostre rivali ragazzi per cui allora aumentiamo non so a questo punto dire di andare più sulla sull'educazione fisica perfetto anche la giornata di oggi è andata per cui torniamo a casa è venerdì ragazzi allora vediamo quanto manca di sanità a questa poveraccia il 14 per cento semplicemente ragazzi per cui basterà poi fare una giornata di assenza per togliergliela del tutto praticamente quindi direi di aspettare quel momento per quando chiaramente arriverà il momento di conoscere la nuova rivale non perdiamo troppo tempo facciamo lezione apprendiamo cose nuove avanti su con l'educazione fisica riusciremo ad alzare anche questo ragazzi al livello 1 direi di non di non fare altro tanto per ora la reputazione mi rimane così questo ma su questo magari mi aiuterete voi ragazzi a capire perché non si alza ulteriormente quindi adesso abbiamo la possibilità di fermare tra virgolette gli insegnanti che cercano di acchiapparci chiaramente anche l'abilità di spingere e tirare certi grossi oggetti pesanti per cui benissimo allora anche la giornata di oggi è andata ah si ragazzi un'altra cosa so benissimo che il gioco non è aggiornato insomma che è stato pubblicato un nuovo aggiornamento però io sinceramente c'è un po' paura ragazzi ad aggiornare il gioco a partita iniziata nel senso non vorrei che magari poi con l'aggiornamento si sminchia qualcosa e perdiamo tutti quanti i progressi fatti fino ad ora per cui se vi state chiedendo per quale motivo non l'aggiorno il motivo è questo qua ragazzi andiamo a casa di nuovo oggi è sabato domani non si va a scuola ok 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 qualcosa sta accadendo quindi il mio dolce meraviglioso senpai è fin troppo popolare per il suo stesso bene oh shit eccola qua che già arriva ragazzi giustamente passato il pericolo dei venerdì ci presentano già la nuova rivale per cui infatti già un'altra ragazza gli si sta avvicinando un po' troppo ultimamente sarà tipo forse quello che noi definiamo topo di biblioteca quindi timido e riservato topo di biblioteca quindi quando un ragazzo vede insomma quel tipo di ragazza ah ok l'unica cosa che lui desidera è accoglierla fra le sue braccia e proteggerla giusto quindi mi fa vomitare quindi me ne devo liberare il prima possibile chiaramente ma se la sua morte risulta essere un assassino ovvio potrebbe complicare le cose ok quindi se dovessi decidere di ucciderla perché c'è anche l'opzione ragazzi di farsela amica togliersela dai piedi in altri modi forse dovrei fare in modo di farlo sembrare un incidente quindi l'unica cosa che so riguardo questa ragazza è che lei ama i libri quindi sarebbe sicuramente un peccato se la cosa che lei ama di più è ciò che la porta alla sua tragica dipartita quindi prima che lei possa distruggere i miei sogni devo essere io a distruggere lei ok quindi quello che sappiamo è chi ama i libri è un topo di biblioteca quindi c'è la biblioteca nella nostra scuola quindi Rioba ci dà sempre un suggerimento su come poter fare fuori l'attuale rivale in base fondamentalmente a quello che le piace fare in pratica quindi in questo caso sappiamo che le piacciono i libri quindi evidentemente ci entrerà qualcosa alla biblioteca perché c'è la biblioteca a scuola ci sarà un modo per farla fuori lì evidentemente che saltiamo la domenica tanto ragazzi bisogno di lavorare urgente adesso non ne ho perché comunque avevo guadagnato un pochettino di dindi per cui sì passiamo direttamente al lunedì insomma il lunedì ragazzi lo vediamo perché voglio vedere insomma cosa fa la tipa e come si comporta tra l'altro con il nostro senpai e l'indomani allora a questo punto delle cose lo terremo per far crollare definitivamente la sanità della poveraccia che ci abbiamo in cantina per cui andiamo a scuola ok eccoci qua ragazzi uh eccola 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 senpai sì infatti è timida vedi è super timida ho pensato forse è un vento ho fatto un vento questa mattina e ne hai fatto uno in più e vuoi darlo a me ok facciamo ancora parte del club di giardinaggio in ogni caso potremmo mettere il veleno per topi nel vento senpai comunque così per scrupolo perché non si può mai sapere non so se ci sarà ancora qua dentro a sto punto delle cose sì chiaramente sì per cui lo prendiamo e andremo intanto a piazzare questo ragazzi nel vento che lei ha dato a senpai così giusto per scrupolo almeno per non giocarci da questo punto di vista il primo giorno perché non si può mai sapere io non so come andranno le cose con l'altra tipa lo avveleniamo e poi io direi di dirigerci senza troppi indugi in biblioteca perché da quanto ha detto Ryoba questa qua ha mai libri quindi io suppongo che quello che farà sarà rinchiudersi in biblioteca eccola qua è lei ah ecco ecco è diventata volontariamente bibliotecaria della scuola ottimo mi dispiace mi dispiace da morire senpai perché mamma mia praticamente vomita ogni settimana sto poveraccio eccoci qua vediamo se le teorie erano giuste infatti ah ok il compito lo posso fare pure a te così magari te divento simpatica in qualche modo ecco fatto ta 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 wala 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 e bella tieni guarda si vediamo se c'è un modo ragazzi ah vedete ecco che intendeva to crush her cioè nel vero senso era la parola schiacciarla distruggerla disintegrarla con la libreria e insomma prendiamo la gente in simpatia poi possiamo chiedere pure il favore di di uscire ok quindi non si sa mai se dovessi ci dovesse servire di avere la biblioteca vuota se le cose dovessero andare male con l'altra tipa eccetera eccetera comunque potremmo decidere di ammazzarla o schiacciandola con la libreria quindi comunque tutti dovrebbero uscire io direi di fare lezione aumentiamo la biologia a mani oddio quanti 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 punti ci avevo what the fuck non li ho usati tutti così stavolta ragazzi almeno non ci perdiamo il dialogo quando escono da scuola almeno stavolta potremmo assistere a lui che la smerda completamente c'è un sacco di di punti top quindi aumentiamo qui la biologia andiamo avanti col linguaggio che a questo punto può essere molto molto utile ecco la psicologia ah ok adesso possiamo quindi somministrare un tranquillante ok 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 si appicina il momento si appicina il momento non eh che cosa c'è beh diglielo senpai dai insultala che cavolo quel bento si trattava di uno scherzo o robe simili scherzo io non farei mai uno scherzo a nessuno bene mi ha fatto vomitare tipo immediatamente no non può essere no quando non l'hai fatto di proposito non è un gran problema però adesso andrò a casa non è un gran problema senpai oh ma come potrei oh no niente quindi già la prima giornata si è giocata ha fatto sta ragazzi che cioè lui non l'ha saccagnata di insulti ha detto wow ma ha fatto vomita però cioè se non l'hai fatta apposta non fa niente ma che cazzo dici senpai oh sveglia intanto la la torturo adesso perché non voglio saltare una giornata di scuola così a caso effettivamente ok eccoci qua a martedì andiamo di sotto fatemi vedere un attimo ah la posso già portare a scuola fermi 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 quindi allora se la porti a scuola puoi metterle un'arma in mano quindi praticamente costringerla ad uccidere qualcuno dopodiché lei si toglierà la vita ok accetto accetto vediamo cosa succede ragazzi se dovesse riuscirci questa cosa cioè tipo toppe perché se non sbaglio lei dovrebbe restare tipo ferma in un punto all'inizio perlomeno fin quando non le diciamo noi cosa fare dove cacchio la prendo un'arma posso prenderla al club di giardinaggio se facciamo senpai tu dov'è la la nostra amica ah vabbè adesso le dai il libro ma dov'è la nostra amica oh non mi ricordavo male io però io la tipa non la vedo ragazzi questa cosa mi sta preoccupando dove cazzo sta no dai cioè non mi dica che mi sono giocata così la cosa cioè allora che cacchio gli sono stata appressa fa tutto sto tempo scusatene io che ci ho sperato fino all'ultimo di potermene liberare così non è che non ha funzionato ragazzi perché perché era la prima rivale magari si è buggato per qualche motivo non lo so perché io non la vedo dai che sfiga regà non è giusta questa cosa comunque non è giusta intanto le dobbiamo rubare quel benedetto libro perfetto sei tu il suo stalker no perché tanto qua tutti stalkerano tutti ovviamente rubiamo il libro perché non si sa mai vado sull'ammazzarla con la libreria e io suppongo che si creerà sangue e robe del genere ci serve a bacinella ci serve a candeggina ci serve a mop ci servirà di portarla all'inceneritore ragazzi devo un attimo orientarmi e capire dove trovare le cose che mi servono io farei questo tentativo proviamo ad ammazzarla già oggi sempre se se mi riesce ok aumentiamo la psicologia ok qua c'è tutto quello che mi serve ragazzi però non so se adesso posso andare in giro con sta roba sinceramente eh no infatti non posso cazzo mi ha abbassato la reputazione di otto ma porco dinci allora aumentiamo ancora una volta la psicologia ed è arrivato il momento di provare a fare quello che ci serve direi di riempirla già tanto penso di poterla già riempire ok la poggio per terra quindi mettiamoci la candeggina ok portiamo questo di sopra non so se lei tornerà qui quando finirà di pulire probabilmente sì ok infatti lei è qui che pulisce perfetto lasciamolo qua mi servono i sacchi della monnezza oh porca miseria ok io non penso che arrivi qualcuno qui nella biblioteca quindi dobbiamo approfittare il fatto è che non so se lei si metterà giusto dietro quella la libreria o adesso o mai più sta mettendo giusto dietro questa libreria no no che cazzo fai io pensavo la spingesse ah ok perché devo spingere quest'altra va benissimo qua ragazzi la paura è tanta è arrivato il momento doveva andare così ragazzi niente allora immediatamente puliamo il sangue assolutamente pazzarola ho capito dip dip sto cazzo sweep ok ho pulito oddio continuo a sanguinare oddio 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 no porco dinci lo sapevo ragazzi sarebbe stato fin troppo bello per essere vero insomma tanto ormai ragazzi ma avete vista sti cazzi no ecco chiaramente non poteva finire bene cioè ragazzi sarebbe stato incredibile riuscirci a primo colpo chiaramente la polizia arriva mi scoprono il corpo non trovano le armi del delitto le armi del delitto è stata schiacciata ma siete rincoglioniti quindi si ovviamente mi accusa a me dell'assassinio ma nessuno comunque può confermare questa testimonianza quindi la polizia comunque non ha alcuna giustificazione valida per arrestarmi ragazzi c'è nonostante tutto nonostante io stessi lì pulendo col mocio la polizia non mi può collegare ad alcun crimine non ci sta a credere ragazzi quindi tutti quanti sono liberi di andarsene purtroppo il senpai è profondamente rattristato dalla morte della sua amica addirittura amica quindi vabbè lo stalkerizza torna a casa quindi è andato tutto a gonfie vele ovviamente la tipa non c'è più non ho ancora capito cosa cazzo sia successo con l'altra ragazza ma quindi le cose sono andate così ragazzi non sto credendo a quello che sta succedendo chiaramente adesso la reputazione mi è calata tipo da fare schifo allora proprio logicamente è assurdo cioè non possono collegarmi al crimine ero lì col cadavere che pulivo il suo sangue dal pavimento cioè comunque chapeau sono riuscita comunque a cavarmelo non ho ancora capito come ovviamente la reputazione adesso oddio c'è addirittura la la commemorazione funebre quindi nessuno può chiaramente descrivere la tragedia di una perdita simile ok perché mi fanno mi fanno sponare qua ah ok perché siamo stati tutti quanti chiaramente alla veglia funebre non male che mi ero alzata veramente al massimo la reputazione perché sennò sarebbe stato un disastro ragazzi adesso niente cioè di regola è a posto la rivale è andata io me ne vado a lezione come se nulla fosse aumentiamo la psicologia ci manca tanto così direi di fare lezione aumentiamo finalmente la psicologia il linguaggio pure a posto livello 2 sono sempre gli stessi aspetti che comunque aumentano sempre più di valore vediamo un attimino ragazzi di quanto mi aumenta la reputazione adesso cioè con livello 2 intendo eh ok più 3 ok quindi aumenta di 3 eh ragazzi siamo riusciti nel nostro intento cos'è sta roba adesso pure delle gamere ma andate affanchilo raga problema risolto di nuovo di regola io non so se ci saranno altri sviluppi a riguardo nel corso della settimana però se non sono stati capaci di beccarmi alla prima voglio dire non penso che ci saranno risvolti da questo punto di vista nei prossimi giorni per cui allora ci rivedremo partire da qui la prossima volta andando incontro alla quarta rivale come sempre ragazzi se avete consigli e suggerimenti da darmi potete farlo qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione up toscia a tutti ragazzi da giocherina ciao ciao